Domenica 13 dicembre, giornata nazionale delle famiglie al museo, il Museo Diocesano Albani di Urbino non si tira indietro in queste occasioni tante, le attività dedicate ai bambini. Sì, aspettiamo le famiglie per un'attività in cui il museo diventa un luogo per fare, non solo per osservare le opere d'arte. Infatti, cogliendo quello che è il tema delle famiglie al museo FAMU 2024, Museo Green, abbiamo pensato di lavorare sulle opere d'arte con materiale di riciclo. E' questa una piccola attività che vuole essere però un grande segno di condivisione di un'idea di come riciclando si può contribuire al benessere dell'ambiente. I bambini quindi accompagnati vengono accolti dall'educatore museale che farà una passeggiata con loro all'interno del museo e poi si fermerà su un capolavoro e i ragazzi e i bambini potranno riprodurlo. Questa attività si inserisce nella proposta che i servizi educativi fanno ormai da anni, che vede anche un ricco programma rivolto alle scuole di ogni ordine grado. Le scuole di Urbino già da anni vengono al museo e facciamo didattica museale. I progetti e i percorsi che sono individuati all'interno della proposta possono essere poi modulati sulla base delle esigenze dei bambini, dei ragazzi e delle programmazioni didattiche. Il museo di Cesano Albani è sempre pronto ad accogliere bambini, famiglie, docenti. Come mettersi in contatto con voi per queste iniziative ma anche durante tutto l'anno per scoprire questi luoghi? Una buona prassi è quella di rimanere aggiornati sui canali social, quindi Facebook e Instagram. Abbiamo poi il sito del museo che è sempre aggiornato e di volta in volta ci sono i contatti che possono essere direttamente utilizzati per prenotazioni e informazioni. L'Arcidiocesi ha diverse sedi, diversi i musei che prendono vita con diverse attività. Sì, ad Urbani e in particolare al museo di Cesano Leonardi che ha delle sue specificità e ci consente anche di declinare alcuni laboratori in quella particolare sede di Cesana. Ora, un esempio è la caccia al tesorio, oppure l'occhio al dettaglio, oppure il puzzle al museo. Tutte attività nelle quali i bambini sono direttamente protagonisti della loro conoscenza, del loro apprendimento e vivono il museo come un'esperienza significativa da ripetere e da condividere anche con i compagni.